Tagliolini al limone e scampi di febbraio. I tagliolini al limone e scampi sono un primo piatto di febbraio che conquisterà tutti i tuoi ospiti. Una ricetta facile e veloce, ma dal sapore deciso e particolare, perfetto per una cena speciale. Gli ingredienti principali sono pasta fresca, limone, scampi e prezzemolo. Una volta preparati, i tagliolini andranno saltati in padella con olio d'oliva, aglio, prezzemolo, pepe e succo di limone. 200 g di tagliolini, i 6 scampi, un limone, un spicchio d'aio, un prezzemolo, l'olio d'oliva extravergine, sale, pepe, pulisci i tuoi scampi e mettili da parte. In una padella, versare l'olio d'oliva extravergine, l'aio tritato e il prezzemolo. Lasciare soffriggere per qualche minuto. Aggiungere i scampi e farli saltare a fuoco vivace. Aggiungere il succo di limone, del sale e del pepe. Cuoci i tagliolini in abbondante acqua salata per il tempo indicato sulla confezione. Scolare la pasta al dente e versarla nella padella con il condimento. Mescolare per amalgamare gli ingredienti. Servire i tagliolini al limone e scampi ben caldi. I tagliolini al limone e scampi sono un primo piatto di febbraio che conquisterà tutti i tuoi ospiti. Una ricetta facile e veloce, ma dal sapore deciso e particolare, perfetto per una cena speciale. Gli ingredienti principali sono pasta fresca, limone, scampi e prezzemolo. Una volta preparati, i tagliolini andranno saltati in padella con olio d'oliva, aglio, prezzemolo, pepe e succo di limone.